Buongiorno a tutti, oggi non vedrete la mia cam in quanto devo farvi vedere una presentazione e quindi per questo non mi vedete. Oggi voglio parlarvi di un blocco di Twitter, ovvero di come è cambiato il blocco e di come Twitter ha ripristinato la vecchia versione di blocco in quanto poteva dare dei seri problemi di stalking. L'ho scoperto grazie ad un articolo di download blog che andiamo subito a vedere su Safari, come vedete Twitter è un grave passo falso sulla funzione blocco utenti scritto da Francesco Lanza, venerdì 13. La furia degli utenti induce Twitter a tornare sui propri passi e non cambiare la politica del blocco utenti. Adesso di questo articolo ho fatto un powerpoint con il keynote per Mac e andiamo subito a vederlo. Quindi, come vedete, adesso andiamo subito al play, Twitter cambia metodo di blocco ma poi ci ripensa. Questo è il nuovo metodo, ovvero che è stato usato per qualche periodo, non so di preciso quando però era diventato così, ovvero gli utenti bloccati vedono i nostri tweet, gli utenti bloccati restano nuovi nostri follower e i tweet del bloccato rimangono invisibili per l'utente. E questo, il terzo punto, mi sembra corretto. Il problema è che l'idea di Twitter era di ridurre la possibilità di rappresaglie da parte di chi viene bloccato, ma allo stesso tempo rendeva più facile ad uno stalker di tenere d'occhio le proprie vittime. Quindi si ritorna al vecchio metodo, ovvero gli utenti bloccati non possono più essere nostri follower. Le loro risposte e i tweet non compaiono nelle nostre notifiche e non li possiamo leggere, compaiono nelle ricerche. Non ci possono aggiungere alle liste e non possono vedere la nostra immagine di profilo nella loro pagina o timeline. Questa è la fine. Questo qua è il nuovo Keynote con la nuova versione, insomma, quella per Maverix. Volevo ringraziarvi per i nuovi utenti che si stanno aggiungendo. Se volete commentare questo video e anche dire una vostra su se preferivate il nuovo metodo che è stato sostituito di nuovo dal vecchio metodo e se volete seguirmi ancora iscrivetevi al canale che appena possibile pubblicherò nuovi video. Ultimamente sto cercando, adesso stanno finendo il periodo dell'università visto che iniziano le vacanze di Natale e quindi sicuramente aumenterà la mia distribuzione di video durante la settimana. Questa settimana ad esempio ne ho fatti due o tre se non sbaglio. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video!